Il percorso è tracciato. Dopo una lunga riunione, i big dei Democrat hanno individuato alla mezza la strada maestra che li condurrà alle amministrative di Cosenza e Crotone. Sotto l'egida del sottosegretario Marco Minniti, è stato deciso che a coordinare le operazioni sarà il segretario regionale Ernesto Magorno. Un atto di fiducia totale che butta acqua sui fuochi di qualche mese fa e che è ancora più importante alla luce dei delicatissimi centri su cui si va ad intervenire, Cosenza in particolare. Ma ecco come il partito di governo ha deciso di procedere. Prima verrà concordata l'idea di città e le alleanze da costruire. Solo dopo, individuata la coalizione, si procederà alle candidature. La scelta migliore sarebbe quella di bypassare le primarie e pare che così vorrebbe anche Roma, ma è difficile che si riesca a mettere in moto una situazione del genere. Nella città Abruzia preme il manager Lucio Presta, un nome il suo che vedrebbe l'appoggio del premier Renzi, ma che faticherebbe a vedere convergenza su di sé da parte del territorio. C'è poi Carlo Guccione, l'ex assessore al lavoro, non ha mai nascosto le sue mire per la fascia tricolore Bruzia, nemmeno se questa dovesse comportare una corsa alle primarie. Infine il nodo di Crotone, dove il partito continua a navigare a vista. La candidatura del segretario provinciale Arturo Pantisano è praticamente certa, ma non unitaria. Nella corsa potrebbero anche inserirsi gli sculco. Insomma, per Magorno i prossimi mesi saranno tutt'altro che semplici. Dalla Mezzia Terme, Tiziana Bagnato, per la C News 24.